Un focus sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Un nuovo format che trasforma per la prima volta il giardino verticale della Biblioteca Comunale di Forte le Marmi in un set televisivo per dare informazioni utili ad affrontare la difficile realtà quotidiana. Parte Impegniamoci Forte. Domenica 29 novembre alle 21.30 in diretta su Noi TV va in onda il primo dei due appuntamenti speciali. Una trasmissione di servizio nata per dare risposte concrete ai mille interrogativi che l'emergenza Covid si porta dietro. Sul palco del giardino Bacchelli, intervistato da Federico Conti, ci sarà il sindaco Bruno Mursi che approfondirà la tematica valendosi di videocollegamenti con illustri personalità del mondo medico-sanitario oltre che di tutte le parti sociali che quotidianamente sono fortemente impegnate nella gestione dell'emergenza. Nel corso della diretta, visibile anche in streaming su NoiTV.it, sarà possibile fare domande da casa via WhatsApp. Il secondo appuntamento con Impegniamoci Forte è in programma per domenica 6 dicembre.